Ehi là, cosa si dice in paese? Qua possiamo dire solo che sta per iniziare un'altra top. Oggi parleremo di vulcani. Nel mondo ce ne sono davvero tantissimi e quegli attivi addirittura 1300. E sfortunatamente il Vesuvio sembra il più pericoloso, ma volete sapere, giusto per rovinarvi la giornata, quali sono gli altri vulcani più pericolosi del pianeta? Mettetevi comodi, aprite gli occhi e preparate i pop corn e dopo cominciamo! Banua Uhu. Sembra quasi il verso di una scimmia, invece, è il nome di un vulcano. Si trova nelle isole San Gihi, in Indonesia, ed è un vulcano sottomarino. E senza una guida risulterà difficile trovarla e l'equipaggiamento giusto ovviamente servirà. Dal pavimento marino è cresciuto fino a 1312 metri, raggiungendo quasi la superficie. Ma la cosa più sorprendente di questo vulcano è che con le sue eruzioni è stato in grado addirittura di creare delle piccole isole. È ancora considerato attivo e nel 2009 un terremoto di magnitudo 7.2 è stato rilevato nella zona. Nonostante la pericolosità, sembra sia un posto bellissimo dove immergersi. Anche perché altri vulcani sottomarini sono quasi impossibili da vedere, questo è uno dei pochi visibili facilmente, però state sicuri che lo eviterò ad ogni costo. Anak Krakatoa Ah, lo so che qualcuno stava per confonderlo con il famoso e pericoloso vulcano Krakatoa, ma non è proprio così. Vi spiego bene la situazione. Il Krakatoa che tutti conosciamo nel 1883 ha provocato l'eruzione più impressionante mai vista, devastando tutto quanto. Distruggendo l'isola Krakatoa, più di 36.000 persone morirono, in modi orribili. Sembra fosse stata registrata una potenza di ben 200 megatoni. Fu così potente da causare un cambio climatico nel mondo nei 5 anni a venire, diminuendo le temperature di quasi 2 gradi centigradi. Nel 1927, dopo 44 anni dal disastro, dei pescatori hanno notato che la zona del vulcano stava cominciando a mostrare segni di attività. Si stava risvegliando sputando fuori dei detriti di piccole dimensioni. Nulla di allarmante, tranne per il fatto che una settimana dopo aver buttato fuori un po' di lava e detriti era nata un'isola chiamata Anak Krakatoa. Che vuol dire figlio di Krakatoa? Sembra proprio un'offesa. Comunque sia, nel dicembre del 2018 un'eruzione aveva causato un brutto tsunami nella zona ed essendo così giovane i ricercatori temono si verificheranno sicuramente tantissime altre catastrofi a venire in questo vulcano. Paricutin Basta Indonesia, adesso ci troviamo in Messico e un umile contadino si è ritrovato con un vulcano dietro casa. Ma procediamo con ordine. Nel febbraio del 1943 Dionisio Pulido, come detto prima un semplice contadino, si stava preparando ad iniziare la primavera, bruciando così un po' di erbacce e arbusti qua e là e altre cose. Meglio iniziare prima piuttosto che fare all'ultimo come me. Tornando a Dionisio, verso il pomeriggio era andato in un'altra zona. Arrivato sul posto però notò una crepa molto ampia, quasi due metri e con una lunghezza di 45. Non ci fece molto caso e continuò il suo lavoro, ma all'improvviso il cielo si riempì di nuvole e fulmini. Dal buco che aveva ignorato venne fuori un gigantesco cumulo di fumo grigio che soffocava l'aria. L'uomo scappò di corsa e scoprì poco dopo che quello era un vulcano. Gli scienziati per la prima volta poterono osservare la nascita di uno di essi. Nel primo anno fu molto attivo, crescendo fino a raggiungere i 400 metri. Fortunatamente nel 1952 si spense, ma al posto dei campi coltivabili lasciò solo desolazione e terremorte. Per ben 32 chilometri quadrati. E pausa snack. L'altra volta vi avevo chiesto il nome di questa ragazza e stavolta alcuni hanno sbagliato, ma comunque in tantissimi, ma proprio tantissimi, avete dato la risposta giusta. E devo ancora finire di mettere i cuori. Mi farete fare le nottate in bianco se continuiamo così. Ma stavolta propongo un quiz ancora più difficile. Anzi, al prossimo video. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Surtsey. È un vulcano scudo sottomarino situato in Islanda. Le eruzioni hanno creato Surtsey, l'isola che ne prende il nome e sono parte del sistema vulcanico sottomarino Vetsman-Neijar, o come si dice. Pensate che queste eruzioni sono durate ben due anni, da novembre 1963 a giugno 1965, ed è forse una delle eruzioni più lunghe mai viste nella storia. Da allora l'isola ha continuato a crescere e crescere, ed è diventata una delle più famose del mondo insieme ad Anna Krakatoa. Ma in questo caso, per qualcosa di alquanto particolare, è incredibile. Dentro essa stava nascendo vita. Vita nuova, con migliaia di piante da studiare e tanti animali, che hanno cominciato ad abitarla nello stesso momento. La sfiga è che, ancora una volta, è un vulcano attivo e potrebbe ruttare da un momento all'altro. Ma se non lo facesse, secondo le ricerche, l'isola i suoi esseri sparirebbero nel 2100. Nishinoshima Prima del 1973, l'isola di Nishinoshima non aveva avuto eruzioni per ben 10.000 anni. In realtà è la punta del vulcano Nishinoshima, un vulcano sottomarino di circa 3.000 metri di altezza e 30 chilometri di larghezza alla base. Si trova a 970 chilometri da Tokyo, nelle isole Osagawara. Nel 1973 qualcosa cominciò a muoversi sotto i mari. Le eruzioni quindi cominciarono e altre isole si formarono, unendosi poi alla principale che si trovava sopra la bocca. Così si estese la zona. Ma non era finita. A 500 metri a nord un altro vulcano eruttò, sempre sotto i mari, e creò un'isoletta di 200 metri di larghezza e 20 in altezza. Nulla di che finché in pochi mesi essa crebbe e già a fine gennaio 2014 era grande 30 volte di più. A inizio maggio 2014, dopo l'unione con Nishinoshima, il diametro congiunto era di un chilometro e l'altezza di 60 metri. Alcuni pensano che ad oggi sia finita e che si sia addormentato, ma non è così. In elicottero durante un controllo è stata notata dell'attività e che forse più avanti potrebbe di nuovo eruttare. Nel 2015, dopo l'eruzione di un vulcano vicino le isole Tonga, nel sud del Pacifico, una nuova isola era emersa. Il nome era Hunga Tonga e gli scienziati pensavano fosse molto ma molto instabile, rischiando di eruttare ancora. È famoso perché è uno dei soli tre vulcani ad essere nato negli ultimi 150 anni ed è rimasto tranquillo negli ultimi 4, dopo essersi unito piano piano ad altre piccole isole, formando addirittura un nuovo ecosistema. All'inizio le terre emerse sembravano aride e rosse come quelle di Marte, ma incredibilmente tutto cambiò e cominciarono a formarsi piante e nascere forse nuove specie di animali, che ancora devono essere studiati. I ricercatori non vogliono avvicinarsi incautamente visto che potrebbe eruttare da un momento all'altro, ma isole del genere non vivono molto a lungo e potrebbe benissimo sparire subito. Tamu Massif Il Mauna Loa era uno dei vulcani più grandi del mondo, con 75.000 km2 di terreno, e si trova nella Hawaii, finché a strapparli il primato nel 2013 ci fu l'incredibile Tamu Massif. Oh, lui non scherza per niente, quindi meglio starci attenti. Sapete quanto è grande il terreno di questo cratere che potrebbe anche devastare il pianeta volendo? 310.000 km2, alto 4.000 metri, largo 650 km, e posizionato a 6.000 metri sotto l'oceano Pacifico, vicino Giappone, Cina e Filippine. Ma questa grande crepa spaventosa sembra sia anche uno dei più grandi del sistema solare finora conosciuti. Addirittura rivaleggia con Olympus Mons di Marte, un vulcano che sembra abbia la stessa quantità di superficie del territorio italiano, ma ancora oggi piena di misteri. Insomma, si trova su Marte, quindi è un po' dura raggiungerlo. Lago di Lava Ci sono alcuni laghi in cui è sconsigliato fare il bagno al 100%, specialmente in quelli di lava, e vi devo pure dire perché. Sì, insomma, se non volete tornare a casa senza pelle è meglio non avvicinarvi. Anzi, diciamo che non tornereste proprio a casa se provaste ad andare in un lago di lava. Ma non accadrà mai una cosa del genere. Perché a differenza di quello che si pensa, i laghi di lava non sono così frequenti. Ce ne sono soltanto 8 in tutto il mondo su 1500 vulcani attivi. Non parlo delle colate di lava che riempiono alcune zone dopo un'eruzione. Quelle si solidificano subito a contatto con l'aria. Infatti ricordatevi che la lava, appena viene fuori, in poco tempo diventa roccia a contatto con gli agenti esterni, tra cui ossigeno. I laghi di lava sono rare eccezioni. Sono dei punti dove la lava arriva in continuazione senza mai solidificarsi. E l'ultimo è stato proprio scoperto in questi anni sulla sommità di un remoto vulcano subantartico, il Mount Michael, sull'isola di Saunders, nell'arcipelago delle isole Sandwich Meridionali. Misteriosi vulcani sotto ghiaccio Il 12 agosto 2016 sono stati scoperti ben 91 vulcani in Antartide. Questi sconosciuti si trovano per la maggior parte nella terra di Mary Bird, una delle regioni più remote e inaccessibili di questo paese. Questa linea di vulcani misura ben 3500 km di lunghezza, secondo i ricercatori sarebbe la più vasta mai vista sulla Terra, ed è piena di misteri. In teoria le eruzioni non dovrebbero raggiungere la superficie, ma mai dire mai, perché se accadesse sarebbe un disastro senza precedenti, e ancora non si è capito se sono attivi o meno, perché sono tutti coperti dal ghiaccio. Fin troppo spesso per essere rotto in qualche modo comunque. Con le calotte polari che continuano a sciogliersi, le probabilità di eruzioni in quel punto nel mondo sono davvero sempre più alte. Con questo concludiamo. Al mondo i vulcani attivi e pericolosi sono davvero tanti, e a volte sembra che madre natura ci dica di stare calmi, che è sempre lei a comandare. Ce lo ricorda di tanto in tanto con qualche eruzione qua e là. Noi per oggi ci lasciamo, ma tornerò sempre con una nuova top, stesso posto e orario diversissimo ovviamente.